Questo punto per noi è fondamentale perché non serve neanche descrivere una squadra così che punta la Champions, punta lo Scudetto, quindi è un punto fondamentale che ci aiuta a prendere consapevolezza nel nostro cammino per arrivare a un obiettivo comune e in questo obiettivo comune speriamo che si avvicini sempre di più, il prima possibile anche. Lunedì dovete sapere che ad otto gol, ma ci seguono in tantissimi, quindi non si saranno persi una parola di quello che abbiamo detto. Si parlava di Ronaldo, magari una portante parata di Lorenzo Montipò sul Ronaldo, chissà sul rigore. Ronaldo non è stato convocato, c'erano comunque Di Bala e Morata, ne abbiamo viste le qualità con il gol incredibile di Morata, però dopo Montipò quando doveva intervenire lo ha fatto. Quindi sicuramente al di là dello spirito di sacrificio che abbiamo già tante volte detto, che si è visto in queste ultime due partite, una crescita costante di Lorenzo Montipò che doveva solo aspettare per misurarsi in un campionato che a quanto pare gli calza a pennello. Sì, guarda, grazie per i complimenti, spero che questo campionato li farò per altri 10-15 anni perché alla fine è il mio sogno e è vero, all'inizio forse dovevo un po' tastare il terreno, un po' l'ansia diciamo, però sono contento che sto migliorando di partita in partita e sono contento che la squadra stia portando a casa risultati importanti, come è successa la vittoria esterna di Firenze e il punto oggi con la Juve. Ora avremo molte partite ravvicinate prima della mini-sosta che ci aspetterà a Natale e vedremo cosa porteremo a casa sperando di finire prima di questa mini-sosta con molti più punti. Assolutamente, sono d'accordo perché all'inizio delle prime partite prima della seconda sosta prendevamo sempre i gol bene o male da oltre il dischetto di rigore. Quindi nella sosta ne abbiamo approfittato e abbiamo parlato con i terzini e con tutto il reparto difensivo, in primis con le mezzali e con schiattarella perché sono loro che su queste palle dietro e su queste palle sul secondo palo lunghe ci devono dare più spesso una mano e l'han fatto e lo stanno facendo tuttora molto molto bene. Infatti stiamo soffrendo meno ed è una cosa dovuta alla concentrazione massima e al fatto che ora siamo molto più compatti e molto più aggressivi sui portatori di palla che è quello che forse ci mancava un po' all'inizio e ci faceva soffrire un po' di più. Purtroppo per me mi ispiravo al portiere che oggi non c'era con cui speravo di scambiarmi la maglietta però sicuramente per la mia annata lui è stato il più grande idolo. Ora nonostante la sua età gioca ancora, gioca ancora nella Juve ogni tanto per cui questo non toglie che grande portiere che sia tuttora. Mentre per ora però posso dirti che mi ispiro sicuramente come portiere ad Alisson mentre prima sicuramente Buffon facilmente ti rispondo anche. Assolutamente, partendo dal fatto che secondo me il Parma è un grande organico e lotta per la salvezza anche loro però non partiamo assolutamente da favoriti soprattutto fuori casa. Per cui sicuramente abbiamo un altro atteggiamento perché come è successo anche l'anno scorso che mi aveva ricordato Walter in trasmissione la sconfitta di Pescara è molto simile a quella che abbiamo fatto con lo Spezia. Per cui è una partita che ci aiuterà a capire come non dovremo affrontare certe gare e che ci porteremo dietro tutto l'anno perché sappiamo perfettamente dove abbiamo sbagliato e come potevamo poi migliorare. Ma guarda, le critiche personalmente non le ascolto quindi non saprei neanche dirti che tipo di critiche ci hanno aiutato. Lo spogliatoio posso dirti che è sempre stato uno spogliatoio compatto e forse abbiamo pagato come ti ho detto le prime partite in Serie A perché andavamo troppo spavardi, un po' tutti in avanti e pochi in fase difensiva. Ora abbiamo capito che la cosa principale in Serie A è difendersi e quello che viene poi dopo è superfluo per dire una parola così però siamo consapevoli di quanto valiamo e di quanto è forte la forza del nostro gruppo e questa è quella che ci permette di andare in campo a lottare l'uno per l'altro. È stata un'occasione creata da loro con un grande lancio del centrocampista che non mi ricordo, forse Chiesa? Fede ha fatto un grande lancio e con le qualità che ha per lui è normale e poi in uno contro uno Morata difficilmente sbaglia davanti al portiere. È stata forse una mancata copertura? Sì, però è pur sempre un gol che abbiamo concesso alla Juve in contropiede per cui me lo faccio anche andare bene un gol subito dalla Juve in quella situazione perché poi abbiamo fatto tutti gli altri 89 minuti della gara a parte quel minuto perfettamente in fase difensiva dove abbiamo subito veramente poco. Chiudo con una curiosità, perché tu sei in una posizione dove vedi tutto, non ti perdi nulla. Quando la Juve, i bianconeri si sono resi conto che non sarebbe stato facile. Io ho visto durante il riscaldamento erano molto molto rilassati, nel finale nervosi. Per l'ennesimo pareggio ricordiamo che hanno lasciato punti a Crotone, col Verona, al di là che con le Laziali, quando hanno capito che non sarebbe stata facile a Benevento. In che momento della partita, dopo il gol di Letizia, nel secondo tempo, quando secondo te? Ma secondo me per tutta la partita lo sospettavano perché hanno visto che trovavano del duro di fronte. Hanno avuto un po' la strada spianata dopo il primo gol in cui magari pensavano di portare la casa, però il gol di Gaia a fine primo tempo gli ha dato un bel colpo e noi siamo rientrati nel secondo tempo convinti che saremmo potuti uscire dal campo con dei punti. E questo secondo me loro hanno capito e infatti si sono messi fin dal primo minuto del secondo tempo a spingere tutti quanti e noi abbiamo fatto il possibile e il possibile è bastato per portarsi a casa un punto.